Le elezioni regionali, in particolare quelle in Puglia, rischiano di diventare il prologo a quanto accadrà dentro Forza Italia all'indomani del voto. Che il partito sia destinato a subire una mutazione, cosa nota, lo vuole Berlusconi, ormai insofferente alle beghe interne che da mesi tengono banco dentro Forza Italia, e ne sono consapevoli molti big del partito indisponibili ad essere messi in disparte dal cosiddetto cerchio magico. La situazione sembra irrecuperabile, vedendo quello che sta avvenendo in Puglia, dove la proposta avanzata da Luigi Vitali di ricandidare tutti i consiglieri uscenti con l'obiettivo di raggiungere una tregua con Raffaele Fitto viene rispedita al mittente. Gli uomini vicini all'eurodeputato bollano la mediazione proposta dal commissario di Forza Italia come una trappola, affidando ad un uomo di Schittulli il compito non solo di rifiutare seccamente la proposta, ma soprattutto di dichiarare che senza una retromarcia ufficiale Forza Italia sarà fuori dalla coalizione di centrodestra. Nessun passo indietro dunque, anzi, domani in programma la presentazione ufficiale della candidatura di Schittulli, sostenuto da Fratelli d'Italia e Nuovo Centrodestra. Non ho ottenuto da parte della dirigenza nazionale di Forza Italia la disponibilità a presentare una lista competitiva a differenza di quanto proposto da Fitto, ha detto Schittulli. L'ipotesi che il partito possa dividersi in Puglia con ripercussioni a livello parlamentare inizia a diventare sempre più concreta. Fitto alza il tiro dicendosi non disponibile ad accettare compromessi. Nonostante le trattative non siano ancora concluse, i tempi sono sempre più ristretti. E a questo punto dalla lista di Forza Italia scomparirebbero i nomi dei consiglieri fittiani uscenti. Berlusconi sulla questione sembra aver abdicato con la sensazione concreta che perdere la Puglia di Fitto e lasciarla nelle mani di Emiliano potrebbe dare un maggior slancio per la rigenerazione del partito. Un partito in fase di dismissione nel quale nessuno vuole trovarsi impreparato. I fittiani in primis, ma anche gli uomini che fanno riferimento a Dennis Verdini, che al momento ha deciso di stare alla finestra.